Albenga, buonasera da Rinaldo Agostini, con grande piacere qui con voi, ho già presentato altre edizioni di Mille Volte Moda e devo dire che vengo sempre con grande piacere perché qui si respira proprio la volontà, la voglia di fare di questa via bellissima piena di negozi, piena di vita, piena di attività, perché lei, la vera anima, la direttrice artistica di questa sfilata Chicca Marchesi, facciamo un grande applauso alla nostra Chicca Grazie mille, devo fare uno scontrino, capisci che prima la vendita Brava, hai fatto bene Allora, grazie a tutti voi che siete qui, a nome di tutti i miei colleghi negozianti, spero che questa sera vi divertiate tanto e abbiamo fatto questo anche per voi Io dovrei lanciare questo perché è un rito di Mille Volte Moda di iniziare lanciando questo bouquet e poi ne lanceremo una alla fine per la chiusura È un po' pesante, non vorrei fare male a qualcuno nel tirarlo, quindi io lo lancio Mettete le mani in avanti per non prendere in faccia Copritevi i visi e via Un applauso Allora, signora, lei si sposa entro l'anno Allora, buon divertimento a tutti E siamo pronti Chicca? E allora io vedo già delle splendide ragazze Giovani, giovanissime, ma tutte quante belle e brave soprattutto Via allora con la boutique Chicca di Via dei Mille Chicca quest'anno festeggia dieci anni di attività in Via dei Mille 99 È dietro a ripresentare la sua collezione ottuno-inverno 2018-2019 Sono due linee di abbigliamento per poter seguire al meglio tutte le donne Infatti, la nostra Chicca è in grado di vestire dalla taglia XS, ovvero Extra Small Alla Double XL, ovvero la WXL Dallo sportivo all'Elegante Specializzata anche per le cerimonie Ma credo che gli abiti della nostra Chicca parlino da soli Facciamo un applauso, Chicca! Come potete notare anche gli abbinamenti sono molto importanti Guardate che splendido cappotto, guardate i colori L'abbinamento La morbidezza del tessuto E qui siamo su qualcosa di più elegante Naturalmente, come vedete, abbiamo lo sportivo ma anche l'Elegante E beh, qui i tagli sono bellissimi Mi sembra proprio... Ragazzi, queste modelle arrivano direttamente da Milano Hanno appena finito Milano Moda la settimana e sono precipitate qui ad Albenga Si sono precipitate da Milano le collezioni Sono qui per la Chicca Bravissime, bellissime, bellissime gli abiti splendidi della nostra Chicca E qui quando si ha una collezione così Signori, non possiamo che inchinarci Qui abbiamo un... Una cena di lavoro dopo aver finito una giornata impegnativa E allora possiamo andare tranquillamente perché ci sentiamo a proprio agio Non abbiamo problemi Siamo bellissime di classe Ma anche, se vogliamo così, disinibite, sportive anche Come vedete c'è un'eleganza ma non ostentata È un'eleganza molto fine Qui siamo su dei tessuti particolari Come ho detto, queste sono le clienti della nostra Chicca Ma per me sono delle modelle bravissime Oh sembra che abbiano fatto sempre questo Cioè hanno sempre fatto le indossatrici queste ragazze E lo sapevo, in effetti quando siamo venuti giù da Milano Proprio ho detto, ragazze Vabbè, voi siete professioniste Andiamo a Dalvenga in via dei Mille per mille volte moda Mi raccomando, avvolite, eh Perché se lo meritano Gli abiti sono splendidi E le modelle anche Megalanzials Qui ci sono Me prezятissime Me prezятissime La boutica Chicca e qui abbiamo la clac madame vous êtes très chic nous avons des indossatrices qui viennent aussi d'Alasio nous avons la partena rosa applaudite pure non ci offendiamo merci Grazie! Chicca! E qui siamo! Sì! Caro Biondi! Una serata particolare insieme al vostro lui, oppure anche per una festa. Sarete sicuramente al centro dell'attenzione. Con gli abiti di Chicca Marchesi, in via dei mille ad Albenga. Facciamo un applauso a queste ragazze che mi sembrano delle professioniste, l'ho già detto ma lo ripeto, sono bravissime! Wow! Ma guardate questi abbinamenti, questa gonna, mille pieghe! Splendida la lavorazione di questo cappotto. La lavorazione cosentina naturalmente è di moda, particolarmente quest'anno vedete la lavorazione di questo cappotto che si è appena levata la modella. La lavorazione cosentina è tipica proprio di questi ultimi anni. E qui siamo proprio in una... in una spirata bellissima per una grandissima soirée. Madame, vous êtes très elegante e très chic. l'autre soirée magnifique. Cerimonie... E qui, qui siamo, magari un matrimonio, cosa ne dite? Un bel matrimonio? Credo che ci sia, sono abiti splendidi, diciamolo chiaro e tondo, dalla chicca si trovano questi gioielli, sono veramente dei gioielli d'abito. Madame Magnifique! E qui ragazzi, gli applausi vanno via, che è un piacere, giusto? Come avete notato, abbiamo degli abiti monocolore, molto chic, molto eleganti, ma anche per una serata particolare o come una cerimonia, come dicevamo prima, anche il colore, ma vedete ton sur ton, vedete anche la lavorazione, tutti questi tessuti sono molto belli. E qui bisogna proprio dire che la chicca non ha sbagliato un colpo, ha scelto veramente bene. Facciamo un grande applauso alla chicca che sale con Starsky Hatch! Starsky Hatch, Cristian e Flavio, li trovate in Via Dante, ad Alassio, al numero 118. Un applauso a tutte le grandi indossatrici. Le due linee di abbigliamento della nostra chicca, dalla XS, cioè dalla extra small alla doppia XL, dallo sportivo all'elegante, anche per le cerimonie, quindi dalla mattina alla sera, alla notte, con la nostra chicca. Un grande applauso! Brave e belle, devo dire che proprio hai scelto bene le tue indossatrici. Grazie a te, chicca! Grazie a tutte le splendide modelle! Brave! Se pensate che realmente sono ragazze, persone che sono dei clienti, nessuna di queste è una professionista, ma veramente a vederle sfilare non si direbbe, perché a prescindere da tutto quanto, dagli abiti, dalle aggonciature, loro sono state tutte molto brave, perché hanno saputo portare gli abiti con grande nonchalance, con grande semplicità e stile. Siamo pronti con Lia, che lancerà il bouquet come tradizione, la chicca ha lanciato all'inizio, ed ora Lia lancia la fine! Voilà! Basta che non vada la stessa, un applauso! Grazie a tutti coloro che non si vedono, ma che senza di loro sarebbe impossibile tutto questo. Agli amici vari che hanno aiutato le modelle, i bimbi e le bimbe, Lucia Toscano, conditelo con i fiori per i bouquet offerti, Andrea Bozza, e i cantonieri che lavoreranno questa notte per scontare il palco e ridare la viabilità alla via. Buonanotte a tutti da Rinaldo Agostini e arrivederci a maggio con Mille volte Moda Estate. Ciao e buonanotte, arrivederci! Buonanotte a tutti, grazie! Ciao! Grazie! Grazie! Grazie!